Lunedì 26 dicembre, Santo Stefano. È il 360esimo giorno. Dall'inizio dell'anno ne mancano 5 al termine. Il sole sorge alle 7.49 e tramonta alle 16.33. La luna si leva alle 10.46 e tramonta alle 29 minuti. I signori di notte sono incaricati di tutelare la città dagli incendi. Si ricorda che erano sei nobili, uno per ogni sastriere in cui risedevano, ed erano incaricati di provvedere alla pubblica sicurezza e altre incombenze simili durante la notte. Le previsioni per domani. Fino alle prossime ore è molto nuvoloso sui settori dolomitici settentrionali, con qualche possibilità di burrasca di neve sulle creste di confine. In seguito, sereno o poco nuvoloso. Verso sera, tendenza ad aumento della nuvolosità. In pianura, nubi basse, foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, mentre durante la giornata saranno probabili schierite anche ampie. Temperature minime in calo, massime in aumento in pianura, inflessione in quota. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest. In pianura, rinforzo dei venti dai quadranti orientali in serata. Linenthino Linenhino Linenhino Grazie a tutti.